Bene, una sera oggi vediamo un altro esempio di script Udon avrei voluto tanto farvelo vedere con l'Udon Graph cioè praticamente il meccanismo visuale ma dopo diversi giorni in cui ho cercato di farlo e aver trovato le più improbabili dei problemi cosa che se hanno messo in crisi me sicuramente potrebbero mettervi in crisi anche voi credo che la soluzione migliore per programmare in VRChat come del resto avevo già pensato prima fosse quella normale, quella di usare Udon Sharp in particolare in questo caso abbiamo uno script che tutto sommato non è niente di che cioè questa cosa qua che adesso andremo a vedere che è fatta con lo script normale e tutto sommato sono poche righe fatte con la tecnica del Udon Graph diventa veramente un macello insomma non si capisce niente allora, bando alle chiacchiere e vi faccio vedere dove voglio arrivare comunque l'idea è quella di avere un oggetto che quando clicco cambia dimensione quindi o diventa grande o diventa piccolo quindi facciamo il play di questa scena e poi la ricostruiremo faremo vedere lo script poi faremo in questo video anche la ricostruzione da zero di questa scena tra l'altro se avete notato ho cambiato un po' la disposizione delle finestre in modo tale da avere il play abbastanza grosso qua ho messo il project e la hierarchy qua sotto questo perché alla fine programmando diventa molto semplice cioè diventa utile avere la console adesso magari la vediamo anche cioè la console dice delle cose che sono molto interessanti nel senso che se succede qualcosa che non capiamo abbiamo diverse strade nello scripting una di queste strade è quella di andare nell'inspector a vedere quali sono le varie cose sulla destra un'altra strada è quella di mettere del debug in posizione strategica allora vediamo un po' quindi close menu entriamo e ho fatto il play close menu e vedete che siamo di fronte al nostro interruttore abbiamo chiamato interruttore quando clicchiamo sull'interruttore vedete che la capsule invece di sparire diventa piccola e se clicco ancora diventa grossa quindi questo è un toggle si chiama, infatti lo chiamiamo toggle scale perché il suo obiettivo è quello di cambiare la scala ora la scala quindi questo interruttore agisce su un altro oggetto e per agire sull'altro oggetto è opportuno, adesso spengo un attimo lo script occorre che nell'interruttore che è questo questo è l'interruttore noi dentro abbiamo scritto un don behavior poi tranquilli che ve lo faccio rivedere dentro c'è un script che è questo toggle scale fatto così e come vedete sotto c'è anche questa parte qua che indica quali sono gli oggetti su cui l'interruttore agisce in questo caso è la capsula che trasforma ma noi volendo potremmo anche farne un altro per dire con lo stesso script che è questo signore toggle scale quindi noi volendo possiamo prendere un altro oggetto tanto per dirvi come si usa quindi facciamo game object creiamo un altro questa volta creiamo una sfera questa sfera si chiama sfera questa sfera vedete che adesso qui ho usato tutti i termini maiuscoli giusto perché proprio nella versione di Udon graph alla fine non si capiva mai niente quindi l'ho messo in maiuscoli così sappiamo che è uno dei miei oggetti se voglio che l'interruttore che adesso duplico quindi facciamo ctrl D credo ecco l'ho duplicato quindi questo secondo interruttore interruttore 1 lo chiameremo magari interruttore sfera e poi cliccando vedete che lui ha ancora la capsula ma noi gli mettiamo la sfera al posto della capsula quindi a questo punto tra l'altro notate che qui c'è scritto sfera e transform questo perché lo script della sfera o dell'oggetto che gli mettete dentro prende di fatto soltanto la parte transform che sarebbe questa parte qua quella che dice la posizione, la rotazione e la scala in realtà prende solo la scala tutto il resto non lo considera però potenzialmente potrebbe far agire anche su quello vediamo allora qui abbiamo la scena cambiata ctrl S cambiamo il facciamo il play quindi facciamo il play di questa scena qui ci impiega il Cianemu ci impiega un pochino a fare ecco a questo punto andiamo qua allora questo sappiamo che ci rimpicciolisce e questo vedete che rimpicciolisce o ingrandisce la sfera quindi come vedete lo stesso script può lavorare su entità completamente diverse basta che gli si dica allo script dove andare a prendere le cose quindi su quali oggetti lavorare quindi questo è già è già una cosa interessante perché lavorando già con questi due scriptini che abbiamo visto la volta scorsa uno che accendeva che faceva apparire e uno che faceva sparire con questi interruttori noi abbiamo già fatto un'interattività minimale ad esempio in un museo in cui magari fate vedere una piccola caverna è che quando la clicchi diventa grossa quindi ci potete girare dentro l'altra cosa che possiamo fare senza neanche scriptare è cambiare questo use nel senso che visto che non è chiaro che cosa fa andiamo su questo interruttore e invece che use gli diciamo agisci mettiamoli semplicemente capsule che vuol dire che quando lo clicchiamo agisce sulla capsula così diventa evidente questo vuol dire che al posto di use si è scritto capsule ed è un pochino più facile da capire qua al posto di use mettiamo sfera e tra l'altro vedete che c'è anche la possibilità di vedere la distanza su quale agisce agisce soltanto quando sono abbastanza vicino a due metri se volessi che sia un po' più lontano devo allungare questa proximity salviamo la scena andiamo in play e andiamo effettivamente adesso vedete qualche secondo a sistemare tutto facciamo il close menu vedete che qui ad questo punto c'è scritto capsula quindi sappiamo che cliccando su questo oggetto rimpiccioliamo la capsula cliccando su sfera rimpiccioliamo la sfera notate che se mi allontano a un certo punto vedete che tra l'altro qui me lo fa vedere perché vedete che quando posso cliccare compare la zona blu in realtà quando siamo sul nella versione di in VRChat quindi se noi facciamo il show control panel e questa scena la proviamo a lanciare dentro VRChat che abbiamo visto che è comodo ma è anche un pochino lungo perché ci fa penare un pochino quindi VRChat show control panel ha deciso che non lo fa vedere eccolo qua è arrivato quindi probabilmente facendo quella cosa è riapparso facciamo il build and test sempre in qua tra l'altro qui c'è anche un'altra opzione che non ho fatto vedere che è il number of clients 2 che vi permette di vedere la scena con due avatar diversi quindi qui forse non VR perché tutti questi scripting sicuramente all'inizio conviene testarli in desktop perché è molto molto più comodo quindi adesso lui dovrebbe attivare due finestre di di test ok quindi abbiamo una VRChat facciamo un go avete capito perché quindi qui praticamente abbiamo vedete qui c'è scritto sfera agendo su questo vedete che agisce sulla sfera mentre invece agendo sulla capsula vedete che agisce sulla capsula quindi abbiamo praticamente il fatto no? in questo modo qua non so come fare ad andare fuori quindi io gli ho detto due ecco vedete che c'è anche un altro qua vedete che mi ha creato un altro go ho fatto alt tab per uscire e quindi entrando con la seconda finestra vedete che qui c'ho un altro signore e c'ho anche l'eco quindi magari ecco vedete che c'ho salazarla giù e qui facciamo capsula vedete che la capsula da questo funziona anzi addirittura farei così prenderei questo prenderei l'altro ok ok questo qui facciamo e tendo a premere escape facciamo tab qui facciamo escape ecco vedete che adesso clicco con l'avatar primo eh sono troppo lontano quindi devo avvicinarmi sfera e la la vediamo che in realtà come temevo il secondo avatar non vede questa informazione quindi se noi facciamo anche qua quindi lo vede solo la singola avatar per il momento va bene così poi vediamo vediamo come effettivamente riuscire a risolvere questo problema cioè faremo tale che tutti gli avatar vedano gli effetti delle cose che fate prima di chiuderlo però questo video dobbiamo entrare nel merito dello script perché se no vi serve a poco lo script comunque lo pubblicherò su pasta bin e lo script è sostanzialmente questo qua che vedete scritto qua che però facendo un doppio clic entro in modalità nel visual studio e nel visual studio vedete che questo è il programma e il programma praticamente ha sostanzialmente due public uno è la capsula quella che gli ho messo su cui agisce quindi scrivere public e poi un termine qua subito dopo l'inizio dello script vuol dire che questo oggetto può essere si dice in termini tecnico iniettato dall'esterno quindi gli può dire di usare un qualche cosa che viene fornito a livello di inspector ho messo anche questa grossa semplicemente un flag flag vuol dire un marcatore di stato che può assumere due valori vero o falso booleano sarebbe e questo marcatore è quello che ci dice se la capsula o comunque l'oggetto su cui stiamo lavorando è da considerarsi grosso o piccolo quindi all'inizio è piccolo e quindi grosso e false e poi gli mettiamo il metodo che sarebbe praticamente un click che però si chiama interact public override void interact e dentro il public override void interact ci domandiamo se la capsula era grossa allora se era grossa ah si perché in realtà se era già grossa in realtà dobbiamo farla piccoletta e quindi dobbiamo sostituire questa questa qui quando è piccola e questa qui quando è grossa quindi praticamente il concetto adesso ve lo spiego meglio dunque se la capsula era grossa che era falsa all'inizio allora dobbiamo oppure facciamo true nel senso che mettiamo che all'inizio era grossa perché effettivamente era grossina le dimensioni dunque se era grossa gli mettiamo le dimensioni del local scale a mezzo metro vedete questo è un vector 3 vuol dire che deve essere fatto mezzo metro mezzo metro mezzo metro se invece era piccola la facciamo grossa e quindi le dimensioni sono due metri per due per due qui volendo se vogliamo farla di dimensioni diverse ad esempio se vogliamo avere un public dim che sarebbe un vector 3 e vi diciamo vector 3 e facciamo dimensioni piccola piccola e qui facciamo provvisoriamente una cosa di questo tipo e poi facciamo un altro public dimensioni gross new vector 3 e gli mettiamo invece due 2 e 2 e quindi qua se è grossa capsule local scale gli mettiamo dim piccola se invece era piccola gli mettiamo la dim grossa dim grossa ed è che lui ci aiuta con l'invio quindi possiamo farlo così così qui diventa abbastanza più elementare tra l'altro qui volendo le parentesi graffe di solito si mettono quando c'è più di un'istruzione ma qui ne abbiamo una sola quindi volendo si potrebbe mettere tutto più o meno insieme e scriverlo così che è anche più leggibile quindi sarà grossa la dimensione eccetera dopodiché si mette grossa uguale non grossa questo non sarebbe lunary inversion negation lunary negation che abbiamo visto nell'udon è che però secondo me è più facile capirlo con il punto esclamativo perché il punto esclamativo è un po' in alcune diciamo libri di logica viene anche usata come la negazione ma in generale comunque l'informatica equivale a negare negare vuol dire che sarà vero diventa falso e così via quindi gross eccetera quindi vediamo un po' cosa siamo salviamo questo script quindi a questo punto abbiamo messo dim piccola dim grossa torniamo al nostro interruttore qui ci piega un po' probabilmente perché sta compilando qui non vi risponde e vedete che qui abbiamo oltre alla capsula abbiamo anche dim piccola e dim grossa che vuol dire che se noi vogliamo cambiare quindi ad esempio la dim piccola non è 0.5 vogliamo che sia 1 e lo z vogliamo che sia 2 mentre invece la dim grossa mettiamo 2 2 e 4 per dire una cosa diversa da sopra qui abbiamo praticamente questo è l'interruttore e se andiamo nell'interruttore sfera ecco vedete che anche l'interruttore sfera è cambiato lo script perché lo script è unico e viene applicato facendo in questo modo copiando gli oggetti gli script rimangono unici quindi avendo cambiato lo script viene cambiato anche in tutti i posti in cui lo uso il che è molto comodo ad esempio in second life non succede così cioè se io ho messo un script in n posti anche se lo stesso script si comporta in maniera diversamente quindi se noi facciamo il play di questa di questa cosa ci impiega il solito ok close menu ok e poi facciamo questo che ci fa il vedete che da dietro si vede che è cambiato ma in maniera diversa da come ecco per vederlo meglio magari lo guardiamo di lato vedete che è diventato un pochino è diventato è diventato tutto un po' strambo perché ho messo le dimensioni quelle che avete visto prima lì quindi questo è un elemento poi tra l'altro per fare le cose ancora un pochino più diciamo semplici gli mettiamo il cioè più semplice più che altro più che semplice direi diciamo organiche mettiamo ancora on start quindi sarebbe praticamente credo ok private void start che dovrebbe essere quando parte che è quello che ci ha messo all'inizio e gli mettiamo capsula capsula punto local scale e facciamo partire dalla dimensione grossa ecco quando vi dicevo che molto spesso abbiamo la console non vi ho spiegato come si usa allora per capire se la console funziona cioè se un programma funziona usiamo la console e per farlo cosa facciamo mettiamo delle istruzioni tipo debug quindi facciamo debug punto log e gli mettiamo funzione start anzi programma il programma è partito questa sembra una cretinata ma il fatto di essere sicuri che se lui ci stampa questo debug log vuol dire che a tutti gli effetti siamo sicuri che è passato di qua perché tante volte non siamo sicuri se passa di qua oppure no e la stessa cosa possiamo farla qua sotto quindi se noi qua vogliamo capire cosa succede possiamo innanzitutto qui fare debug punto log e poi scrivere il credo che ci sia una sintassi che mi sembra che sia dollaro se non ho derrato il valore di aspettate che la cerco un secondo quindi c sharp c sharp debug log with parameters vediamo un po' se la troviamo multiple variable in debug log vedete che io vado molto spesso in modo così ah c'è il google format mi sembra di aver visto che c'era una modalità un po' più semplice ma evidentemente non c'era quindi la cosa più vicina a quello che vogliamo fare noi a questo punto è usare il più quindi errate a corrige facciamo il valore di e mettiamo grossa e e qui gli mettiamo grossa che sarebbe questa funzione qua e poi se se vogliamo qui possiamo aggiungere il quello che prima abbiamo tolto ma possiamo riaggiungerlo perché perché gli mettiamo queste sono le parentesi graffe le parentesi graffe le sforzazioni italiane sono sempre un pochino complicate e qui gli mettiamo un debug log e gli mettiamo la faccio la rimpicciolisco mentre mentre invece il debug punto log qua sotto cioè quando il grosso la ingrandisco ingrandisco ok così allora se tutto va bene cosa vuol dire che quando parte il programma dovrebbe in teoria fare il private world start quindi vediamo se effettivamente passa e poi quando clicco dovrebbe dirmi queste cose allora faccio il salvataggio vado qui lui ci impiega un attimino a compilare quindi non mi risponde per qualche per un secondo o due ok ha finito facciamo il play ci piega questi tre secondi per entrare ecco andiamo e ecco vediamo vediamo subito su in basso a sinistra se vedete facciamo escape che ci presenta il programma è partito ci dice un sacco di cose in realtà ma ci dice che è partito da tutte queste cose qua dice il programma è partito il fatto che ce lo dica due volte ah si ce lo dice due volte perché abbiamo due script uno è lo script del primo bottone e l'altro del secondo bottone ecco perché ce ne sono due adesso noi se facciamo close menu e poi capsula vedete che dice il loro di grossa è false e la ingrandisco perché era false se lo riclicco mi dice il loro di grossa era true perché è cambiato e se non rimpicciolisco quindi la finestra di console come vedete ha un valore perché ci permette di capire che cosa succede senza impazzire allora adesso come promesso facciamo questo script lo rifacciamo da zero perché è opportuno vedere un po' i trucchi quindi facciamo un nuovo pulsante e lo facciamo proprio partendo da zero quindi facciamo game object create 3d object facciamo un cylinder che sono partito dal cylinder questo cylinder lo sposto insomma in un posto opportuno e poi lo rimpicciolisco con le soliti meccanismi per esempio faccio una cosa così ok il pulsante è fatto e questo qui è il f2 la chiamiamo nuovo pulsante ok ora a questo punto essendo il nuovo pulsante devo aggiungerci uno script quindi per aggiungerci uno script cosa faccio faccio add component e qui devo aggiungere un odon behavior facendo un odon behavior cosa succede che o si mette un programma già esistente tipo quello che abbiamo fatto prima in realtà comparirebbe perché qui in mezzo c'era anche quello che abbiamo fatto prima adesso non mi ricordo il nome ma ci sarà scritto se no alternativamente io posso fare un nuovo programma e ci chiede se vogliamo fare un c sharp oppure un odon graph noi in tutto il mio corso da adesso in poi farò soltanto c sharp perché vi ho spiegato prima che l'odon graph è fortemente frustrante anche se apparentemente interessante però se non vedete l'odon c sharp è perché non avete installato il dovete fare l'import package e custom package di udon sharp quindi vi ricordo ancora che dovete fare per vedere tutti i miei video dovete impostare sia l'sdk3 sia il chanemu e sia anche il udon sharp allora a questo punto visto che qui c'è scritto udon c sharp program assets possiamo fare new program e lui ha creato un nuovo programma quindi in teoria vedete che c'è però bisogna ancora cliccare qua su create script allora lui chiede di dove mettere questo script noi siamo sotto il nostro signore qua quindi siamo sotto toggle scale suggerisco di mettere tutto tutti i programmi sotto la stessa cartella così li troviamo ok e a questo punto il nuovo pulsante lui mi fa vedere toggle scale ma in realtà ce n'avevo uno nuovo vediamo un po' nuovo pulsante provo a ricliccarlo un secondo show un explorer quindi allora nuovo pulsante questo abbiamo qui nuovo pulsante ah ecco questo qui nuovo pulsante che è questo ah si ok a questo punto avete visto a volte quando si creano i nuovi script può essere un po' confondente ma questo è quello che mi aspettavo cioè creando uno script nuovo compare il programma da zero a questo punto tutto è già scritto quindi il nuovo pulsante l'ha creato lui perché lo crea con lo stesso nome dell'oggetto tutti gli script c sharp c sharp estendono vedete questi due punti hanno udon sharp behavior quindi sono se non c'è questi due punti udon sharp behavior lo script non funziona questo è un po' il parallelo con unity in cui normalmente qui c'è un non mi ricordo che cosa monobehavior o unitybehavior ma in questo momento è fatto così quindi il programma è fatto con diverse zone in alto si dichiarano le librerie di sistema che si usano e in questo caso noi usiamo l'udon sharp vedete che è scritta ne mette altre di librerie tra cui l'unity engine ma è scritta in grassetto c'è soltanto l'udon sharp che è quella che serve per farlo start no in realtà vogliamo fare un interact quindi scriviamo interact anzi scriviamo interact eh niente non on interact per me metterlo in teoria no no uff on in interact niente aspettavo aspettavo che lo che lo completasse lui ma sicuramente ah si si vediamo un po' si fa apparire qualcosa quindi oh allora bisogna essere molto più tranquilli di me nel senso che bisogna premere on e poi qua si va a vedere dovrebbe esserci in mezzo a queste cose qua ah no perché sono quelle di base quindi praticamente facciamo public void override o interact vediamo un po' se ce la facciamo a scriverlo dovrebbe aiutarci qui ci sta dicendo che non gli piace questo niente vuole cambiarlo void io farei così void interact ah vedete che adesso è diventato ok quindi bisogna scrivere void interact nella mia dislessione mi dimentico allora void ma la void vuol dire che non trova nessun dato il fatto che dia questo errore in realtà è giusto perché vuol dire che è proprio l'interact che esiste e quindi se adesso è solo un warning questo però dice che sta override un altro ma noi gli diciamo che va bene così override ah perché dice privato quindi deve essere public override public ok override public void interact perché tutte queste scritte allora override perché in realtà questo interact ce l'ha già il suo la funzione base e public perché deve essere pubblico perché se no non possiamo lavorare void non torna niente e qua rifacciamo semplicemente un debug.log per dire che mi hai cliccato questo qui è un semplice esempio di interact e mi hai cliccato ora vedremo se questo funziona quindi facciamo un play anzi dovremmo fare un salvataggio ma ormai abbiamo perso il giro no forse ce la facciamo ha salvato dobbiamo fare il play ok close e poi andiamo a fare l'interact qua use questo allora qua se noi clicchiamo vedete che qua sulla sinistra se uno scape lo vediamo mi ha detto mi hai cliccato ok tra parentesi è buona cosa è giusta mettere in ogni script anche il nome quando si fa il debug per sapere chi è che dice che cosa no comunque qui per andare avanti andiamo di nuovo sul nuovo pulsante questo che è il nostro script e possiamo finalmente fare la stessa cosa che abbiamo visto prima quindi andare a scrivere un public per mettere la transform transform e gli mettiamo un chiamiamolo target no per dire questo qui target allora quando facciamo così la prima cosa che succede anche solo a salvataggio è che il nuovo pulsante qui vedete che compare target noi andiamo avanti quindi andiamo a metterci il l'altra variabilina che era public bool che sarebbe la cosa vera falsa e gli mettiamo stato uguale pic uguale facciamo niente facciamo false per dire che è piccolo no e dopodichè qui ci domandiamo facciamo if stato uguale uguale false quindi se era piccolo praticamente allora facciamo la trasformazione target punto scale local scale uguale gli facciamo new vector 3 perché dobbiamo andare tra i numeri e quindi era stato quindi piccolo facciamo grosso per esempio 2 2 2 sulle tre coordinate e altrimenti facciamo else gli mettiamo target punto local scale uguale new vector 3 e lo facciamo piccoletto facciamo anche solo 1 1 1 per semplicità in più facciamo che se era false facciamo stato uguale true e se era true facciamo stato uguale false ok quindi questo qui è il programmino questo qui lo cancelliamo da qua ctrl x e lo mettiamo qua e facciamo ingrandisco ingrandisco e poi qua mettiamo rimpicciolisco rimpicciolisco ok salvo questo script speranzosamente non mi da errori ricordate memoria tipo questa cosa qua adesso verifichiamo se funziona quindi la vedete che c'è asterisco quindi ctrl s ci piega un po' per chi compila lo scritto quindi adesso dovrebbe esserci ha salvato facciamo il play allora quando fa il play qui vedete che ci dice ci dirà un po' di cose quando parte vedete tra qui il programma è partito che abbiamo visto prima facciamo close andiamo vicino al nostro nuovo bottone che abbiamo fatto questo e facciamo click vedete che facendo click lui ci dice qualcosa e in questo momento ci dà un errore e qual è questo errore? dunque in realtà lo dice lui è un exception eccetera ci dice una serie di cose comunque fondamentalmente lo posso intuire perché non l'abbiamo messo dentro questo oggetto quindi spegniamo clicchiamo allora vedete che qui dobbiamo metterci l'oggetto su cui operare quindi se gli mettiamo che operi sulla sfera che è lì vicino dobbiamo trascinarla se non gli mettiamo niente ed è errore sfera transform allora a questo punto è cambiata la scena facciamo ctrl s facciamo il play ok close menu andiamo verso il nostro oggettino questo lo clicchiamo ecco vedete che ha ingrandito la sfera lo clicchiamo ha rimpicciolito la sfera tac 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 allora tutto il il debug come vedete ci aiuta qua sotto per vedere bene le cose quando ci sono i debug se non li volete vedere potete anche premere qua e non si vedono i debug se nel vostro codice mettete anche degli altri livelli perché c'è il warning e gli error quindi potete vedere soltanto certe parti degli errori che vengono detti però adesso mi ha fatto debug.log e va bene così se non li vedete e magari avete spremuto per errore questo tasto cercate di premerlo quindi riassumendo allora avete capito come funziona la creazione di uno script in C Sharp avete visto ah ecco una cosa che mi ho dimenticato di dire che quando siete in esecuzione potete potete forzare facendo trigger interact vedete che facendo trigger interact qua potete forzare la pressione del tasto e quindi gli effetti che ha senza bisogno di andare fisicamente vicino al tasto a premerlo quindi questo qui direi che è una cosa molto interessante per cui ci sono altre cose ma lasciamo perdere direi che per questo corso diciamo lezione 2 ma abbastanza incisiva sul sul cambio di scala è tutto ricordatevi che se invece di far cambiare la scala volevate invece fare apparire o sparire l'oggetto dovevate fare l'opzione diciamo di activate cioè di active che equivaleva praticamente a questa ma l'avevo fatto vedere nel giro precedente negli script precedenti comunque tutti e due gli script magari anche quello di activate lo metterò poi su pasta e bind se già non ho messo credo che questo sia tutto stoppiamo ricordatevi sempre di salvare salvare poi di solito salva anche il progetto e quindi basta grazie a tutti grazie a tutti